Adesso scopriamo il primo vero e proprio movimento letterario degno di questo nome della letteratura italiana che si chiama Dolce Stilnovo e come diciamo fu definito a metà diciamo della Divina Commedia da Dante Alighieri che lo definisce in questo modo nel ventiquattresimo canto del Purgatorio che è la cantica centrale della Divina Commedia dopo l'inferno e prima del paradiso che sono le partizioni interne della Divina Commedia. Stile è un termine che indica appunto la forma con cui si fa poesia in questo caso perché si tratta di una scuola poetica che produce poesia. Lo stile è definito dolce perché secondo appunto gli appartenenti, i poeti che appartengono a questo movimento bisogna scegliere all'interno della lingua toscana le parole che sono più dolci appunto e meno dure perché gli argomenti da trattare appunto vanno trattati anche in modo nuovo e qui arriva il secondo aggettivo dolce stil nuovo e in una lingua nuova e quali sono gli argomenti principali di cui si parla all'interno del dolce stil nuovo? Sostanzialmente si tratta di un unico argomento, l'amore. L'amore che viene visto dal punto di vista spirituale in modo molto simile se vogliamo alla scuola siciliana. L'amore è una forza che viene creata, suscitata all'interno diciamo del poeta amante da una donna che viene vista come un angelo e quindi si parla di donna angelicata. È una donna idealizzata, raffigurata appunto come qualcosa di irraggiungibile e quindi anche qui si parla di amore spirituale, di amore non terreno. La scuola siciliana, a differenza del dolce stil nuovo, è creata all'interno di una corte, no? Sarebbero sostanzialmente gli amministratori, i notai che lavorano nella corte di Federico II che hanno questa passione comune. Mentre invece all'interno della cerchia del dolce stil nuovo ci sono soprattutto personaggi che hanno a che fare con il mondo comunale che noi abbiamo studiato negli anni passati, quindi alla borghesia, alla piccola nobiltà e quindi qui si parla di nobiltà che non è la nobiltà del sangue blu, la nobiltà di sangue, ma una nobiltà di animo. Tra i poeti principali c'è un bolognese che si chiama Guido Guinizelli, mentre i rappresentanti fiorentini principali sono Guido Cavalcanti e Dante Alighieri. Le forme metriche privilegiate del dolce stil nuovo sono senza dubbio il sonetto, ma anche la vallata e la canzone. Scopriremo il dolce stil nuovo in primo luogo attraverso la figura di Guido Cavalcanti. Guido Cavalcanti era uno, un fiorentino nato poco prima di Dante Alighieri, aveva sette anni più di lui, era nato nel 1258 ed è morto relativamente giovane nel 1300. Era impegnato con il partito politico che vedeva tra i suoi esponenti anche Dante Alighieri, quei più bianchi, e a un certo punto è stato costretto ad andarsene in esilio fuori da Firenze ed è qui che si è ammalato a Sarzana e quando è ritornato è morto relativamente presto nel 1300. Ha lasciato un canzoniere con diverse poesie molto belle e iniziamo a scoprirlo, iniziamo a scoprire Guido Cavalcanti con una poesia, ecco qui un effigio di Guido Cavalcanti, che si intitola Chi è questa che veng con Gnom la mira? Un esempio di poesia che ha al suo, diciamo, centro una poesia, una figura di donna appunto angelicata e irraggiungibile, quasi sovrannaturale, una creatura quasi sovrannaturale. Chi è questa che veng con Gnom la mira che fa tremare di chiarità telare? E me ne segue amor sicché parlare null'uomo pote ma ciascun sospira? Domanda O Deo, che sembra quando le occhi gira? Dica l'amor, chi non sapria contare? Con tanto d'umiltà, donna mi pare, con gli altra ver di lei la chiami ira. Non si può ria contare la sua piacenza, che a lei si inchin ogni centilvertute e la veltate per sua Dea la mostra. Non fossi alta cia la mente nostra e non si pose in noi tanta salute che propriamente navia anche a noscienza. Ci sono un po' di parole difficili, però più o meno si capisce che si tratta di una dote, di una donna appunto che è mostrata quasi come una specie di divinità. Come vedete, le rime delle quartine sono IRA, ARE, ARE, IRA, quindi sono AB, BC, ABBA, quindi si tratta di quartine a rime incrociate, e poi le rime delle tersine sono ENSA, UTE, OSTRA, e quindi sono rime CDE che poi si invertono nella seconda tersina. Quindi, lo schema metrico complessivo che vi prego di annotare è ABBA e poi CDE e BC. Adesso passiamo a fare una parafrasi delle parole più difficili. Come vedete, nella prima quartina c'è una domanda, una domanda retorica. Chi è questa che viene, cioè che cammina in avanti, che ogni uomo la mira, cioè la mira, la guarda con sguardo pieno di ammirazione, che fa tremar di chiarità telare, cioè praticamente che illumina l'aria, quindi è una creatura quasi luminosa, che emana luce, e mena seco amor, cioè vorrebbe dire, e porta, menare, portare, seco viene dal latino seco, vuol dire con sé, e porta con lei amore, con la A maiuscola, perché sarebbe l'amore personificato. Sì che parlare null'uomo pote, vorrebbe dire che nessun uomo può parlare, perché quando uno la vede rimane senza parole, no? Rimane allivito. Ma ciascun sospira, quindi quando lei passa, illumina l'atmosfera circostante, e tutti gli uomini rimangono senza parole, e sospirano, perché i sospiri, anche nel Dolce Stil Nuovo, anche in questo movimento poetico, sono un'emanazione, una diretta conseguenza dell'amore. Oddeo, e qui c'è l'invocazione a Dio, Oddio, che sembra quando gli occhi gira? Vorrebbe dire, che cosa sembra quando gira gli occhi? Oddio, lo dica l'amore, sempre con la maiuscola, che io non lo saprei raccontare, cioè io non lo saprei raccontare, cosa sembra quando gira gli occhi. Con tanto d'umiltà, donna mi pare, cioè è una donna, donna sarebbe anche un latinismo che deriva da domina, quindi vorrebbe anche dire signora, la figura della donna, di cui è appunto un suddito, colui che l'ama. Lo dica, quindi è piena di umiltà, che è una dote apprezzata nella donna angelicata, che ogni altra, averdi lei, la chiamera, quindi che ogni altra donna a paragone con lei, per me è ira, ira, rabbia, è una contrapposizione con l'umiltà. Qualunque donna sembra iraconda in confronto a lei, che è così umile. E poi le terzine, non si potrebbe raccontare la sua piacenza, cioè la sua piacevolezza, la sua bellezza, perché a lei si inchina, cioè cede, ogni gentile, che è anche un termine che vuol dire nobile, virtù, e la beltà sua, la beltà, cioè la bellezza, per sua dea la mostra, cioè la bellezza, ritiene che lei sia una dea appunto della bellezza, quindi è bellissima. Non fussi alta, c'è alla mente nostra, cioè vorrebbe dire, la nostra mente non è stata così profonda, e non si pose in noi tanta salute, la salute è quello che deriva dal saluto della donna amata, il poeta amante aspetta il saluto della donna amata perché porta beatitudine, che propriamente nella via canoscenza, cioè vorrebbe dire che in noi non è stata posta così tanta virtù che propriamente, cioè adeguatamente, ne possiamo avere conoscenza, e così si conclude. È una donna straordinaria, soprannaturale, quella appunto lodata da questo poeta Guido Cavalcanti. Spero che vi sia piaciuta.